siamo con due campioni locali cosa ci aspetta da questa maratona del monte faudo il tempo è veramente inclemente passione pura ringraziamo i nostri colleghi amici aiuteranno a raggiungere la vetta anche se quest'anno quanto pare non la toccheremo ma noi andremo lo stesso per il momento adesso che siamo freschi diciamo che andiamo lo stesso poi vediamo qua a casa dei partigiani cosa succede è la nostra prima esperienza la facciamo in copia tutte e due la prima volta speriamo che sia una gara stoica ci sono il tempo è così ci fa freddo d'altronde se c'è sofferenza la soddisfazione maggiore all'arrivo grazie grazie a voi